Weee! Ciao! Com'è? Tutto a posto? Famiglia? Figli? Tutto a posto? Senti, oggi facciamo una nuova puntata del tuo format preferito, del vostro format preferito che è analizzo i vostri siti Ci credo che è il vostro preferito, analizzo i vostri siti, voglio pure vedere, siete una roba, guarda Comunque, mi avete mandato un sacco di siti, sono felice come un bimbo Ne ho selezionati tre, gli altri li vediamo ovviamente insieme a quelli nuovi che vi manderete nei prossimi video Perché di questo ne faremo tanti, perché mi piace molto, in realtà mi diverto anche io a farli, te lo dico proprio fra me e te Ne ho selezionati tre perché erano diversi fra loro e che mi davano la possibilità di parlare di alcuni aspetti diversi fra loro Che possono essere utili anche per tutti gli altri Ma non perdiamo tempo, non perdiamoci in cianci, altrimenti questi qua sono tutti minuti che poi Fabietto mi deve montare e ci mette un sacco di tempo, capito? E noi non vogliamo fargli perdere il tempo a Fabio Oh, ovviamente io adesso vi sto facendo vedere questa analisi, queste sono analisi super mega leggere Nel senso, ho guardato il sito un quarto d'ora, mi sono segnato due robine e ve le faccio vedere Se vi serve un'analisi un pochettino più approfondita, nel senso non la posso fare in un quarto d'ora Ma sul sito trovate le mie consulenze, quindi potete farlo da lì, vi lascio ovviamente il link qua sotto in descrizione Passiamo all'analisi dei siti Il primo sito che andiamo a vedere è quello di Beatrice Defanti, traduttrice e di interprete DF Traduzioni Piccolo aneddoto, mi avete mandato due siti di traduzioni e tutti e due si chiamavano DF Cioè nel senso, il tuo si chiama DF Traduzioni, l'altro si chiamava Double Face Traduzioni E quindi quando mi sono arrivati ho pensato, beh ma sarà lo stesso? Dice no, perché loro è Double Face, la DF Double Face Tu e Defanti, capito? Quante possibilità c'erano che succedesse questa cosa? Pochissime Allora, appunto, vabbè, traduttrice e interprete, tutto abbastanza chiaro Anche perché diciamo che non l'hai scritto piccolo piccolo che fai la traduttrice e interprete Partirei subito dall'header, visto che è quella che ci si presenta davanti Header e fascione con logo, diciamo con il tuo nome Per me, per i miei gusti, è un po' troppo grosso E ti spiego anche perché però, perché non è soltanto un discorso estetico Qua, tutte le pagine che scorriamo hanno questo fascione col menu qua sotto Che ci portano di fatto ad avere mezza pagina occupata da niente Nel senso che, che cosa potrà, potevamo fare molto più piccolo Quindi, consiglio mio, questa cosa qua magari rimpicciolisci la prima parte E magari, appunto, siccome tanto poi c'è il titolo qua Traduttrice e interprete, professionista su Feltre, Belluno e Trieste Secondo me, traduttrice e interprete lo puoi scrivere un pochettino più piccolo E Beatrice Lefanti anche magari un pochino più piccolo Rimpicciolino un po', abbassare tutta la fascia Così il menu ti rimane anche un pochettino più in alto E hai più spazio per il contenuto Perché qua io praticamente, senza fare il primo scroll, non leggo niente Seconda cosa, vabbè, qua dietro c'è un'immagine che non è descrittiva Cioè, o meglio, è un po' descrittiva degli ambiti Dopo li vediamo, quali sono gli ambiti in cui operi Però, insomma, non è un'immagine che si deve proprio vedere Quindi, anche per dare un pochettino di visibilità di più a questo testo Magari, o ci avrei messo un retino nero sopra Fizzato con un retino un po' trasparente nero O bianco, insomma Che mi dà la possibilità di leggere un pochettino meglio Perché qua, almeno nel mio schermo, c'è un po' di sovrapposizione E, affatti, che ho un pochettino la vista Nel dettaglietto Altra cosa, io qua Perché, ok, questo è il sito dei tuoi servizi, però è il sito tuo Io qua ci avrei messo te Diverso è, attenzione Se tu vuoi fare una roba in cui, appunto, con un'immagine più grande Con te dentro E allora, però, cambia Nel senso che quella parte là finisce sotto al menu Ed è uno dei contenuti del sito In questo caso non lo è Questo è l'header E questo è il problema Non so se sono stato chiaro Poi andiamo a vedere l'alberatura un attimino E poi passiamo sotto anche a vedere l'home page Chi sono? Servizi, esperienze, Feltre, Belluno, Trieste, Blog, Contatti Ok, c'è un tentativo di SEO, vedo Perché questa cosa qua Feltre, Belluno e Trieste Immagino tu l'abbia fatta per fare un po' di SEO local Va bene Tenta però perché di fatto Feltre, Belluno e Trieste Se ci andiamo dentro Sono tre pagine identiche Cioè identiche cambia soltanto questo pezzettino qui Per Google queste sono tre pagine uguali Avrei gestito questa cosa magari un pochettino diversamente Cioè con dei contenuti più verticali Oppure banalmente facendo una pagina unica In cui metti tutti quanti gli ambiti In cui metti tutte quante le zone in cui lavori Secondo me già andava bene così Poi c'è un problemino diciamo secondo me Sull'alberatura che andrebbe un pochettino pulita Perché è un bel labirinto Ecco Secondo me un po' di cosine andrebbero fatte Appunto se io vado in Belluno per esempio Questa pagina è ancora una volta La stessa pagina di servizi Questo è servizi generici Qua è servizi Belluno Qua è servizi Trieste Qua è servizi generici Che in realtà è Feltre e Bassano Trieste Quindi in più secondo me sono queste tre pagine Ma in realtà ce n'è un'altra in più Perché c'è questa Che è quella che quando ho cliccato chi sono Servizi Ma poi c'è Panoramica Che di fatto è ancora una volta la stessa pagina Quindi tu in questo momento hai cinque volte la stessa pagina all'interno del sito Più o meno Nel senso che Google quello che dirà è Ok in servizi mi stai già dicendo che lavori a Feltre Quindi perché me lo stai ridicendo qui In una pagina uguale Io ne indecizzo una delle due Quindi non mi meraviglierei neanche se Di queste cinque pagine Google te ne abbia indicizzata una Però non lo posso sapere La sparo lì Il fatto è che questa cosa fa un po' secondo me perdere l'utente Proprio a livello di navigazione Anche complice il fatto che Il cambio di stato del menu Quindi il colore che cambia del tasto selezionato Dal mio schermo si fa fatica a percepirlo Cioè è molto molto simile E non ci sono le molliche di pane Che aggiungerei tra l'altro i breadcrumbs Che sono i percorsi di navigazione Bene invece qua sotto Non graficamente dico sinceramente Però bene a livello di contenuti Che hai diviso insomma inserito un bel po' di pagine In cui vai a inserire tutti quanti i servizi Spiegandoli per bene Con il title giusto eccetera eccetera Con l'h1 giusto eccetera eccetera E spiegando effettivamente tutti i servizi Fatti bene Attenta perché appunto le pagine che ti riportano Alla panoramica Quindi a tutti i servizi In realtà ti portano a quella che c'è panoramica Che ha questo url Asseverazioni, 3S, Belluno, Feltre, Panoramica E non ha servizi Che ha asseverazioni, 3S, Belluno, Feltre Senza panoramica Che però è la stessa pagina Mi perdo un po' in questa cosa ecco Il fatto che non riesca a ritrovarmi Te la dici un po' Tutta su questo Appunto come ti dicevo Niente da dire a livello di contenuti Che invece c'è tutto Ancora una volta invece mi perdo un pochettino Vediamo anche altre pagine Chi sono? Ok ci sei tu Tra tutti ci interprete Vediamo tutto quello che fai Benissimo Corsi certificazione Niente da dire Scooter Ok c'è tutto Partita IVA Sede legale Brava Poi campi di specializzazione Ok no Lavoro La mia storia E 3S, Belluno Questo qui di fatto è un sottomenu Questo che c'è qui e c'è in servizi Che a questo punto potrebbe essere a tendina O come mega menu di chi sono e di servizi E non rimanere fuori Perché mi ci perdo un po' Cioè comunque io per andare alla tua storia Devo fare due click Ok c'è dove andare chi sono E la mia storia Se fosse un sottomenu Sarebbe già lì fuori Insomma Ci vado Ci vado sopra senza cliccare Mi si apre la mia tendina E vado sulla mia storia Pensaci Io te la butto lì Tu pensaci La stessa cosa appunto succede in servizi Perché non è esteticamente bellissimo E appunto mi costringe a fare più click Per andare a vedere tutto Ok Come ti dicevo a livello di contenuti Nulla da dire Andiamo a vedere il blog Focus linguistici Queste qua sono le categorie Ok Il vino in campo linguistico Ah sì un'altra cosa che stavo dicendo Ecco poi mi sono perso In servizi La cosa che non mi fa impazzire È che qua ci sono dei servizi Che se ho contato bene Sono dieci Uno Due 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 Non vorrei far casino E qua però ce ne sono solo fuori otto Dove sono gli altri due Perché non ci sono gli altri due Metti anche gli altri due Dai Su 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 Non fare la pigra Metti gli altri due No no scherzo Però non capisco Non capisco bene Studi legali e notarili Interpretariato Documenti automobilistici Problema se sono Traduzioni tecniche Ah no Sono proprio diverse Non mi confonde questa cosa Mi confonde Non confondermi Dai Niente Quindi Riassuntone Sistemerei un pochettino a livello di alberatura E cercherei di fare tutto quanto un pochettino più navigabile Perché così ci si perde un pochettino Bene invece dal punto di vista dei contenuti Ottimo lavoro E abbassa quest'header per favore Dopo l'hai fatto Mi mandi un messaggio su istaco Che non mi scrive Ho abbassato l'header E io ti mando il thumbs up Ok Facciamo così Ok Il secondo sito che andiamo a vedere È Miss Media Che è un sito Che mi ha mandato Stefano Che mi ha chiesto espressamente Simone Mi raccomando Massacrami Stefano Posso farlo Lo posso fare Lo posso fare Perché lo posso fare No in realtà ho scelto questo sito per un altro motivo Non perché mi hai detto massacrami Non per neanche Tanto lo faccio lo stesso Perché mi dà la possibilità di parlare di una cosa Cioè Del cattivo utilizzo dei temi Stefano Ma l'hai chiesto tu eh Di essere sincero schietto E di non avere filtri E io non ne avrò Sappilo Prendilo come testato di Di stima E non come Insulto Cioè Ti dico le cose che penso Senza filtri Perché quelle ti aiutano Se ti dicessi No vabbè ma va tutto bene Non ti aiuterò un cazzo Ok Quindi ti dico Secondo me qua c'è un cattivo utilizzo del tema Perché? Perché che cosa è stato fatto? È stato preso un tema Che non c'è niente di male Va benissimo Che è Lo conoscevo Quindi l'ho beccato anche in un attimo Che è B B Team Nella versione Lotti Perché B Team è un tema Che ha dei sottotemi Che però Il problema è che poi è stato trattato proprio male Questo tema Secondo me Nel senso che È stato cambiato molto poco Questo è il tema originale Questo è il sito di Stefano È stato cambiato Molto molto poco E quel poco che è stato cambiato Non è stato migliorato Anzi Perché Sono state inserite queste ombre In un sito in cui di ombre Non ce n'era neanche una C'è anche questo simbolino De infinito Che L'ombra non ce l'aveva Quindi Secondo me Non serviva E anche scorrendo Guardando la pagina Possiamo notare Come L'utilizzo del tema In questo caso Sia stato quello di Prendo un tema E ci incastro dentro I miei contenuti Che è esattamente Quello che Non voglio che facciate Cioè è sbagliato Perché In realtà Un sito web Non si fa così Per me Nel senso che Si parte dai contenuti Si parte da quello che devi dire Si crea l'alberatura Del sito E si crea La struttura Delle singole pagine Quindi Lo storytelling Della singola pagina Tutte le cose che devo dire E poi si adatta Il tema A quello che devo dire Non si fa il contrario Che quello che è successo Qui addirittura Mi viene da pensare Stefano Smentiscimi Se sbaglio Perché non posso non notare Che questo nel tema C'era già E adesso tu l'hai messo Nel logo Che in realtà addirittura Anche il logo Sia stato Diciamo Adattato dal tema E non viceversa E secondo me Non è Non è la migliore Delle idee Anche perché Se questa cosa la fa un'altra Avete il logo uguale Non semplicemente Poi capisco che in realtà Come concetto Quello dell'infinito Ci possa stare Tutto quanto Quindi non è Però Però insomma Questa cosa L'avrei sistemata Torniamo un attimino All'header Ti dico una cosa al volo Così poi la sappiamo Secondo me Già qui No Qui va bene Come grandezza Quando scorri Secondo me Qua ci va La versione del logo Ridotta Perché così È proprio minuscolo Quindi Magari non so se Metti sotto la scritta Miss Potrebbe andare Passiamo al discorso Della comunicazione E così Vediamo tutto quanto È stato svuotato molto Nel senso che C'è proprio Poco contenuto Secondo me All'interno del sito Si spiegano un pochino Le cose Alcune cose meno Però Secondo me In tanti punti Insomma Due robine in più Si potevano dire Ecco secondo me Mi sembra un sito Fatto e messo su Così intanto qualcosa Però Cavolo Si poteva dire Qualcosa in più E mettere magari appunto Due paginette in più Il marketing che ti serve È fatto semplice Quindi l'ambiente Vabbè l'ambito L'avete già visto Perché qua Si spiega Ok si occupa di marketing È facile crescere online Se scegliere l'agenzia giusta Ok quindi Agenzia di marketing Poi c'è uno scopri di più Che ti manda ai piani Ok Che sono qui Dopo li guardiamo nel dettaglio Perché Anche lì Due robine A livello di spiegazione Il servizio Non apro bocca Giustamente Ognuno fa il suo Ecco vedi Allora Ti faccio vedere Qui Addirittura sono state lasciate Le icone originali Anche dove non c'entravano niente Qui e anche dopo Per quello dico È proprio un compitino Cazzarola E tu fai siti internet Dopo lo vediamo Cioè fra le varie cose Cioè che fai siti internet Questa cosa No Non la posso accettare da te Ok Da te no Ok Da un altro sì La lampadina Non è il supporto dedicato 24-7 È tolto che ti sconsiglio Di scrivere questa cosa Perché guarda Ti ammazzano i clienti Se scrivi sta roba qua Veramente ti chiami Anzi sai cosa faccio adesso Ti attivo un pacchetto E ti chiamo Le 4 di mattina No scherzo stai Poi abbiamo qua sotto Si parla del servizio 30 day money bag guarantee Che non ho capito perché In inglese Tutto il resto in italiano Supporto dedicato 24-7 Ok sappiamo Cantiamo il tuo business E siamo qui per questo Mi smedio un'agenzia di comunicazione Spiega un pochettino Che cosa fanno Realizzazione dei siti web Paid advertising Copywriting Made to measure Ossia fatti su misura Eccetera eccetera C'è questa cosa Che viene un po' Ripresa da quello che era Il tema originale L'è rifatta Una cosina Che non mi piace particolarmente È un dettaglietto Però a questo punto Cioè le cose che posso guardare Sono quelle Nel senso che Le cose del tema Che riguarda fare Queste tre foto Non si parlano fra di loro Non capisco perché Non hai messo i cognomi Visto che siete voi tre Ti dico che Sono proprio tre foto Che non c'entrano niente con loro Queste due Sembrano della stessa famiglia E questa no Sembrano quasi photostock Ti dico Queste due Però no Non sarà Però no Metti anche i cognomi Così Cioè nel senso Che siete voi Tanto puoi fare anche una pagina Chi siamo anzi E spiegare meglio E linkare da qua Le tre Le tre figure Che compongono Il vostro team Poi questo Sembra un bottone Ma non lo è Infatti poi dentro C'è scritto Scorri per vedere di più Che Nel senso Si stavo già scorrendo Quindi Su me poteva anche Non esserci 70 più progetti Realizzati La nostra parola D'ordine La qualità Anche qui Poco da dire Nel senso È proprio È proprio ricalcato Cioè Quello che dicevo prima Cioè è stato preso il tema E qua cosa ci scrivo dentro No A giorno d'oggi Chi non è online Ok va bene Anche qua Stesso discorso Mi va bene tutto Mi va bene usare il tema Però le icone cambia Nel senso che Cavolo Questa non è l'icona Del paid advertising Questa copywriting Ci potrebbe stare Web creation No Cioè ma ci metti un computer Quindi Starei attento a quello Poi c'è un'altra cosa Che non capisco Qua mi spunta fuori un contattaci Che se lo clicco Mi manda la pagina contatti Bene tutto Tranne il fatto che Ma non c'è la Progressive policy Mi raccomando Che ti Chiapettano Però poi la pagina contatti Non è qui nel Nel header Non so se è una scelta personale Se è una scelta personale Non la capisco Nel senso che Capisco che tu Vuoi far vedere i piani Vuoi farli attivare E quindi magari È un percorso più guidato Però allora a questo punto Questo sito diventa Un sito monopagina Nel senso Non ha neanche senso Che i piani Visto che poi All'interno dei piani Ci sono solo i piani Non siano direttamente In un page Poi qua ci sono due articoli Che io all'inizio Pensavo fossero articoli del blog E ho detto Ma perché non c'è il blog Allora in un page Invece no Sono dei link A dei siti esterni Che da una prima analisi Non sono i siti tuoi Penso almeno Non mi sembra di no Ma che in più Ti aprono i siti tuoi E non è la stessa finestra Nella stessa scheda Del browser Quindi io ho perso il tuo sito Non tornerò più Cioè no Torno adesso Non vedo vederlo Però rischi che l'utente Lo perdi Però non ho capito Questa scelta Di mettere Nel senso capisco Il discorso dei link esterni Volto a mettere due link esterni Però in questo caso Non aveva senso Non aveva senso Metterli così Perché così sembrano Due articoli del blog Non ci sta secondo me Poi c'è Ottieni una consulenza gratuita Senza impegno Di 15 minuti Se ci clicco Mi manda Contattaci Ok Va bene Ancora qualche dubbio Ok Di questa cosa ne parliamo dopo Perché nell'altra pagina Perché siamo tre pagine Quindi Nell'altra pagina Salta un po' Cioè succede una roba Che non capisco Cioè Io vado in contatti E ho Contatti Contattami Bene Poi scorro Hai ancora qualche dubbio Per contattarti Allora Scrivimi una mail Quindi allora contattami Oppure inserisci la mail E verrai contattato Mi sembra un circolo particolare Insomma Lo sistema Secondo me In questa pagina Soprattutto rischia di non aver senso Perché In realtà perché manca un contenuto Con mezzo Perché poi fatto così Diventa un po' Una sovrapposizione È una cazzata Questa è una cazzata Non succede niente E invece andiamo a vedere i piani Perché qua con il cosina da dire Ancora ce l'ho Qua sono tutti e tre i piani Va bene C'è un ipreto Bene E ci sono tre pacchetti Per le tue consulenze mensili Perfetto Chi vuole iniziare Per chi sa cosa vuole Per spiccare il bolo Va bene Poi però Ci sono tante voci Che non sono spiegate Per esempio Abbiamo Homepage su richiesta Creazione sito web singolo Creazione sito web Cinque anno Non è chiarissimo Nel senso Gli fai cinque siti all'anno Non ho capito questo La SEO qua non c'è Qua c'è SEO base Se è avanzata Se scrivo SEO base Se è avanzata Devo spiegargli Che cosa cambia Quindi metti una I Il classico pallino Che lo apri E poi ti spiega meglio Oppure manca proprio un pezzo Host privato Centro e due Dominio incluso Ok Gestione sito web Ok Non sono spiegati Tutti questi servizi Non sono spiegati Cosa vuol dire gestione sito web Cosa vuol dire Remake sito web Due volte all'anno Massimo Cioè Tu gli fai cinque siti E glieli rifai due volte all'anno Quindi fai dieci siti all'anno Non si capisce Tutte queste cose qua Vanno bene Nel senso Se le vuoi mettere all'interno del pacchetto Quello che è Vanno bene Ma le devi spiegare Quindi questa pagina qua Secondo me Dovrebbe essere Più una pagina di vendita Che non una pagina Con dentro tre pacchetti Tra l'altro Ancora una volta Con le icone Che non sono le due Nel senso Che erano lì E hai lasciato quelle Stefano Eh? Ci siamo capiti Va bene No dai Comunque a parte tutto Lavoraci Cerca di rendere tutto più tuo La sensazione che ho io Cioè la sensazione che vivo Guardando il tuo sito È di poco sincero E è una cosa brutta Perché non penso che sia così Ok? Penso sia semplicemente Magari un po' di pigrizia Cioè Hai preso il tema Mi piace già così Lo lascio così Però questi sono elementi Troppo forti Per affidarti a quelli Perché vuol dire Che questo sito Ce l'ha uguale qualcun altro Il terzo sito Che andiamo a vedere È questo Tre R Saldature Che mi ha mandato Alessandro Si occupano appunto Di Creazione di Grate di sicurezza Cancelli Carpenteria metallica HHH Ho scelto questo sito Perché mi dà la possibilità Di parlare Più ancora Di SEO Ok? Perché qui Secondo me È la parola chiave La keyword La parola chiave La parola chiave Di questo sito qui Di questa analisi Sarà quella Ok Andiamo a vedere un po' di cose Sulla SEO Perché ancora una volta Qua di contenuti Ce ne sono un bel po' Hanno scritto Non è che si sono Trattenuti Però ci sono un po' Di problemini Secondo me A livello di Alberatura A livello SEO E ci sono Una valanga di link rotti Quindi adesso Li andiamo a vedere Tutti quanti Così poi li sistemate Tanto poi li siamo cazzi Allora Partiamo da sopra Quindi c'è Leder su due livelli Quindi con un menu A due livelli Sulla prima fascia Abbiamo un contattaci Numero di telefono Contattaci Home Chi siamo contatti Quindi c'è un contatti Duplicati Ma attenti Perché in un po' di pagine Questo qua è sbagliato Tipo Già qua sarebbe sbagliato Nel senso che Il link è errato Poi dopo Con un redirect Mi manda alla pagina Che questa contatti Il redirect è questo Ma se tu guardi qua sotto Dove carica Abbiamo 3rsrl.it Contatti Slash 3rsrl.it Slash Contatti Quindi poi con un redirect Va a posto Però è sbagliato Ma Da altre pagine Tipo se vado in struttura E vado in contatti Proprio per come hai costruito Quel link Mi manda una pagina Di errore Che in realtà poi Mi manda Appunto 404 Quindi state attenti a quello E' formatato male il link Ma in più Ci sono due contatti Quindi lasciatene uno Solo Tipo questo qua in fondo Magari lo lasciate con questa grafica In modo che sia più evidente Se quello era l'idea Però insomma Attenti a quello Chiudo la parentesi Link rotto Ve ne faccio vedere Altri due o tre Così Un po' di andare a sistemare Tanto queste sono cazzate Molti Molte delle call to action Tipo questa La prima in home page Per esempio Non porta nessuna parte Cioè ti riportano in home page Idem Questa qua in fondo Ti riportano in home page Quindi Io mi farei in generale Un giro Su tutto il sito A ricontrollare link per link Perché Se no È un peccato Insomma C'è un link rotti La gente si pegue L'altra cosa Di cui volevo parlare Era un pochettino Dell'alberatura Anzi dell'alberatura E della SEO Perché Qua si vede che c'è uno sforzo Per cercare di posizionare Delle keyword Quindi probabilmente È stata fatta Della keyword research E mi va bene E c'è stata la volontà Di inserire le keyword Poi all'interno delle pagine Non vedo però Quasi mai Coerenza Fra URL Titolo della pagina E voce di menu Il che Non è una gran cosa Secondo me A livello SEO Ma soprattutto Mi fa perdere un sacco Cioè io mi perdo Continuamente Mentre lo navigavo Mi perdevo un po' Vediamo tutto Così ti spiego meglio Ok Qua per esempio Abbiamo gratte di sicurezza Ok E all'interno c'è Tipologie Fisse Scorrevoli Abbattente cosnodi Questa cosa Adesso ti spiego Perché non mi piace E come la correggerei Perché non è che c'è da rifare niente Cioè A me ha due robe Se io vado in gratte di sicurezza Tipologie Fisse Vado in gratte di sicurezza Fisse Che mi va anche bene Ma Allora a questo punto Essendo anche tre voci Cioè io l'avrei messa direttamente Grate di sicurezza E sotto Grate di sicurezza Fisse Non fisse Basta Perché in questo caso L'ancora Quindi la voce di menu Che porta a gratte di sicurezza Fisse È fisse Che non è parlante Non dice niente E in più Se vado a guardare L'url È Grate Griglia Sicurezza Blindate Fisse Ringhiera Monza Brianza Cinisello Balsamo Cinisello e balsamo Che non è l'url Secondo me più bello del pianeta Cioè Avrei messo una roba Descrittiva Ma come il title Che in questo caso è Grate di sicurezza Fisse Monza Brianza Cinisello e balsamo Sbarre per finestre Anti-intrusione Ok Questa è una descrizione Un pochettino migliore E probabilmente Poteva essere ricalcato Al limite Quello Come url Mentre qua La sensazione Che sia state buttate dentro Un po' di keyword Coerenti Non è che sono a caso Però mi piace bene Avrei fatto una cosa Più coerente Quindi tenere sempre coerenza Perché la keyword principale È una Quello diciamo sempre Che in questo caso È Grate di sicurezza Fisse Che poi Dopo vediamo Potrebbe anche contenere Inferriate O contenerlo all'interno Della pagina In un H2 E quindi Il titolo Url All'interno della description Anche se Sappiamo che non è Un fattore SEO Al 100% La description È più Un modo per far cliccare Sullo snippet Di Google Avrei mantenuto Un po' più di coerenza Questa cosa Poi salta Del tutto Nel momento in cui Vado in Grate di sicurezza Tipologie Scorrevoli E qua mi trovo Inferriate Che ho capito Che sono sempre Grate di sicurezza Però Cavoli Magari immagino anche Che inferriate Abbiate scoperto Che inferriate di sicurezza Ha più Ricerca di Grate di sicurezza Però Soprattutto Se non abbiamo Un percorso di navigazione Cosa che anche a te Come ho detto Anche per il primo sito Che abbiamo analizzato Ti consiglio di metterli Quindi mettere i breadcrumbs Per non far perdere Gli utenti Io In un'altra parte Io non so dove sono adesso Perché qua c'è scritto Inferriata scomparsa E qua c'è Grate di sicurezza Evidenziato La pulirei questa cosa Cercherei di tenere Un pochettino più di ordine Perché l'utente Sennò si perde Anche qua Stai attento Perché In realtà poi vado a contattaci E rimango all'interno della pagina Quindi con il to action Tutte rotte L'unico modo che ha l'utente Per contattarvi Dalle varie pagine È Anche questo è rotto Andare qui E cliccare su contatti Da poi in alto Quindi attenti a questa cosa Perché Qui perdete gente Siamo in progettazione In progettazione Volevo guardare un secondo i testi Allora tre Vabbè A me Sapete Non mi fa impazzire mai Il Parlare in terza persona Mi piace di più Noi Però Va bene Nel senso Comunque Se c'è il contenuto Poi va bene lo stesso Perché Il discorso del parlare in terza persona Non mi piace Perché secondo me Mette un po' di distanza fra te Chi guarda il sito E quindi insomma Avrei parlato Da anni Ci occupiamo Perché tanto Tre R SRL È già la keyword Di chi siamo E va bene così Nel senso Non penso che Ce ne siano altri Che lavorano Con lo stesso nome Nello stesso ambito Nello stesso Quartiere Quindi Nella stessa zona Quindi secondo me Non serve I contenuti Mi Vanno bene Nel senso Mi piace anche Che c'erano i bold Che evidenziano Tutte quelle che secondo voi Sono le keyword E tutto quanto Però Non so se sta a leggere Tutto nel dettaglio Però Insomma Se leggo qualche riga Insomma È tutto coerente Non è buttato dentro A caso E quindi Va bene Torno sul discorso Alberatura Invece perché appunto Gratti di sicurezza Dentro mi aspetto Di trovarci Le tipologie di Gratti di sicurezza Che sono fisse Scorrevoli Abbattenti con snodi Abbiamo detto E anche qua Inferriate Apribili Abbattente Sera con snodi Qua doveva chiamarsi Gratti di sicurezza Inferriate Gratti di sicurezza Apribili Abbattenti Con snodi Cioè tutto Ok La keyword intera Quella lunga Bella Che contiene tutto Link anche qui Rotto Ma non è tutto Perché sarà dinamico Quindi è normale Che sia Oppure è stato copiato Quindi non è Non cambia niente E poi c'è questo Strutture Finiture Che questo Finiture Per esempio Si chiama Inferriate Di sicurezza È la pagina Che mi aspetterei Cliccando su Gratti di sicurezza Con poi sotto Invece Ah no Qua si parla Della personalizzazione No Secondo me È quello che Poteva succedere Cliccando su Gratti di sicurezza Mentre Ah perché questa è Struttura E questo è Finiture Mentre Finiture Avrei fatto delle pagine Che parlano più Uno specifico Delle finiture Invece di nuovo Il titolo di Finiture È inferriate di sicurezza E il titolo di struttura È inferriate di sicurezza Ok No Questo non mi piace Cioè Secondo me Se facciamo una pagina Sulle finiture Tanto che secondo me Si potrebbe non fare Nel senso che Si può parlare delle finiture Nelle pagine In cui parliamo Delle singole Inferriate fisse Quindi Qual è la scaletta Qua parliamo di Gratti di sicurezza Fisse Ok Cosa servono Quindi scegli di dormire Suoni tranquilli Va bene Meno punti critici Da forzare per un elevato Punto di sicurezza Ok Perché scegliere Questa Quindi a livello di scaletta Va tutto bene Estetica e resistenza Sono assicurate Quindi date il plus Che sono Belle Da vedere Eccetera eccetera E le finiture Secondo me Finivano qua dentro O magari appunto Se sono magari Le finiture uguali per tutti Vuoi tenere una pagina sola Allora qua scrivi Guarda tutte le finiture E lo mandi a vedere Tutte quante le finiture Però secondo me Era un contenuto Che poteva arricchire La singola scheda Del prodotto Tra virgolette E poi ancora una volta C'è il contattaci Che rompe tutto Non lo dico più Giuro Ogni volta ci clicco Mi lo ricordo E lo dico Cancello e recensioni Stessa roba Quindi non Non mi dilungo Mi raccomando I breadcrumbs Questa cosa ci tengo Perché Aiutano tanto il percorso Torniamo un attimo In un page Che ti faccio vedere una roba Che invece Ho notato Ho notato prima Ancora una volta Tipo qua Io ho tre cose Di cui parlo Nell'area above the fold Che sono Cancelli e recensioni Grate di sicurezza E ringhiere di ferro Che però Non sono né nello stesso ordine Né addirittura Tipo carpenteria Non è stata Menzionata Ed è stato Menzionato Ringhiere Che evidentemente È una roba Che vi interessa molto Per metterla in alto Però poi l'avete nascosta Nel menu principale Quindi ancora una volta Secondo me Qui c'è un problema Di alberatura Cioè dovete Secondo me Fare Chiudere il sito Cioè non chiuderlo Nel senso Chiuderlo Tirate giù la tendina Aprite un file word E decidete Quali sono le cose importanti Per voi da dire Quali sono i prodotti E in che ordine Che volete vendere E ripartire da lì E quindi Ricreare l'alberatura In quel modo lì Partendo da Quali sono i prodotti Che voglio vendere E se un prodotto Tipo le ringhiere in ferro Ci tengo tanto Perché ci margino tanto Perché le facciamo Particolarmente bene Perché ne facciamo Tante all'anno E riusciamo a farle in fretta Eccetera eccetera Allora Nella voce di me Non la nascondo La tengo bella in evidenza Ok Un'altra cosa È che Ok qua c'è questa slider Vabbè io non vado pazzo Per le slider Però ok Dovete dire tre cose Va bene Anche se poi sono cose Che vengono richiamate Qua sotto Quindi Si poteva anche Non mettere E Impostare la prima parte Quindi l'area Above the fold Su questo tipo di contenuto Magari non con tutto questo testo Perché questa qua Diventa di fatto Un chi siamo E rimane qui E qua sopra È una scheda sola Magari con voi In modo da anche Empatizzare un pochettino Con chi arriva E Fabbro e carpenteria Metallica Ok Quindi il titolo della pagina Infatti questo è l'H1 Quindi è corretto E l'area messo qua E questa parte qua L'avrei tolta Nel senso che Tanto poi lo spieghi Subito dopo C'è nel menu Quindi non Oppure lo spieghi Subito sotto Quindi fabbro e carpenteria Metallica E sotto Scopri le nostre Gratti di sicurezza Scopri le nostre Quindi le call to action Ai prodotti specifici Che vi interessano Altra cosa Poi chiudo Attenzione Che ci sono queste tre aree Che va bene Qua c'è il cursore del mouse Ma se clicco Non succede niente Perché il bottone È solo qua sotto E ho capito perché Perché sopra Ci sono questi link Che invece sono quelli Che funzionano Che mi portano Per esempio Alle gratte di sicurezza Snodate Che sono quelle che abbiamo visto prima Apribili a battente Con snodi Ok Questo testo Probabilmente L'avrei lasciato fuori E gratte di sicurezza L'avrei reso cliccabile direttamente Oppure Togliete il Il cursore da qui Perché è in casina Cioè sembra che non funzioni Il sito Cioè io arrivo Clicco Non succede niente E mi viene da pensare Non funziona E niente Direi che con questo Ho detto tutto Cattivello Perché se no non serve Cioè voi mi rimandate Perché io ve li analizzi Se non ve li analizzo E vi dico va tutto bene Cosa vi serve Quindi Per fortuna Ho altri siti da analizzare Perché dopo questo Secondo me Non me li manda più nessuno No dai Se avete dubbi Domande Ovviamente se vi fa piacere Mandatemi Nel supporto di cazzate I vostri siti da analizzare Mandatemi su Instagram Così io ce li ho tutti quanti Organizzati là E man mano me li segno Poi ogni tanto faccio una storia In cui ve li chiedo io L'avete già visto In questo modo Mi appunto tutto E poi Quando rifacciamo questi video Ne scelgo Ne scelgo qualcuno E lo facciamo E niente Con questo Direi che ho detto tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao